Sì, bello a tutti ragazzi, oggi stiamo in questo nuovo video Sì, ho il microfono perché ha messo una sinu pausa Sì, questo dovrebbe essere di Halloween, no, no, sì Eh, vabbè, Halloween ci vuole tempo, oggi facciamo la sfida a casa e quindi prepariamoci i materiali Raga, abbiamo preparato i materiali, raga, abbiamo preparato i materiali, andiamo Ma vado lontano, ma perché tu stai usando l'oro? Ma te, perché sto facendo di tutti i colori Sì, la mia casa deve essere di 5, di 5 La mia di 6 No, la mia di 7 Ma te, ma non c'è chi fa la casa più alta Eh, però la voglio fare di 7 Uno, due, tre, quattro Mannaccia sta pecora Cinque, tre, sette Ok Uno, due, due Mi sa che la mia casa è un po' troppo larga Uno, due, due Un po' troppo piccola Mannaccia sta pecore Ok, raga, ora andiamo con il diamante Perché sei di tutti i colori Aspettate, raga Aspettate Ma tu non avevi detto che la tua casa doveva venire di 5 Eh, ma te, così era troppo piccola Capito? Ma la mia è piccolissima, va bene La disfusse la faccio su un'altra parte perché è molto affidata Ah, vabbè Esagerato Poi facciamo Quindi è una dinamite di bolbina Ma Prima cosa La La ragazza di Fornay Si chiama Nutrice Non bolbina Vabbè Mi progno Non ne chiamata bolbina Altrimenti non ho affidato Ma sì Se Se fai sfreddere tutto perché è un arco Deflosione E se è bambina si chiama quella di Brawl Stars Che film è i Brawl Stars? Che film è i Brawl Stars? Non è un film, è un gioco Forse c'è pure il film Non c'è il film Forse Non c'è il film È un gioco 2D Matteo già puzza Raga Comunque qua sotto in descrizione Il mio server Wow Sto vedendo Perfuma la mia casa C'è il link in descrizione Se volete Scaricare Minecraft Il mio server Al momento Si chiama Stib Il mio indirizzo Piocciola Ciro E E quindi Andate in quei link Ricordate È molto Importante È sempre con questa Ok raga Continuiamo Soltanto Che c'è di chi batto La pubblicità Ma se ma sta ancora a zero 3 4 Ma non pensare a contare Pensa A fare la casa Va bene Va bene Va bene Calma Ma guarda Ma quanto è in mente Sta ancora a zero Guarda già la mia casa Guarda la mia Che ha un quadratone Che ti fa le frodere la testa No guarda la mia Guarda la mia Dammi la pubblicità Così prendi un po' di te Eh ma tu già stai a zero Qua Stai ancora a zero Eh Vole sempre prendermi in ciro Eh Sempre bene Ti chiede Comunque raga Iscrivetevi al canale E lasciate Un like Perché ne voglio 3.000 Eh 3.000 Guardate Tutti i youtuber Hanno fatto già 3.000 like Oh Ne voglio anche 13.000 13.000 No Sì Ma tu sei Tu sei pazzo Sì Ma Ma stati zitto Che io farò La casa più bella Della tua Aspettate La cosa Mi ha messo Mi ha scordato una cosa Oh Raga Dobbiamo dormire quasi quasi Le bastone E questo si Hanno preso un blocco più meglio di te Non faccio la casa Su tutta la morte Ci metterai un po' Dalla sera Se vuoi Tu dormi E poi Quando io ho finito la casa Ti puoi più Pure feriare La sabbia Eh No Io non mi addormento Siamo sessento Non faccio ragazzi Tutta la notte Faccio Faccio solo questo muro E non hai smesso E vado a dormire Pure tu poi Eh Ma aspetta Ora mettiamo il trucco Ok Raga Penso Allora Noi usiamo sto Minecraft Per giocare in due Ok grazie Addio pegola Addio Sì perché Una pegola Vuole pensare Ad andare sulla mia casa Però Però Ho fatto Dei muri Quindi non può entrare Prima che non entra il maiale Magiale In qua In qua Maiale Sì 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 Vabbè Facciamo un tocco Sì Ok Raga Ho finito Grazie Ho finito La mia casa Ora vi faccio Vedere Mamma che Sei scena Va bene Raga Aspettiamo Matteo Aspettiamo Ok raga Votate Quella di Matteo E fra Quella Mia Quanto Devo Quanto Ciao ragazzi Io devo fare Una cosa più importante Va bene Ciao ragazzi Ci vediamo Al prossimo video